6 cose insolite da vedere assolutamente a Roma, l'ultima è la mia preferita. 1. Guardati un film dentro il cinema più piccolo del mondo con tanto di certificato del Guinness World Record. Dentro Villa Borghese si trova il cinema dei piccoli con appena 63 posta a sedere nei suoi 71 metri quadri. 2. Sempre dentro Villa Borghese si trova l'orologio d'acqua, sì avete capito bene, è l'acqua il motore che muove le lancette e questo è l'unico idrochronometro in Italia. 3. Lo sapevi che il Duomo di Milano si trova anche a Roma? La chiesa del Sacro Cuore del Suffraggio è conosciuta anche come il Piccolo Duomo di Milano. 4. In Viale del Vignola ti puoi catapultare in un vicolo della tipica atmosfera londinese. 5. L'ingresso di Palazzo Zuccari, questa sorta di bocca di mostro che sembra quasi ingurgitare una delle porte di ingresso si trova in centro, a due passi da Piazza di Spagna, precisamente in via Gregoriana 30. 6. Se vuoi scattare delle foto al Colosseo senza turisti ti consigliamo il giardinetto del Monte Oppio. Non so perché tutti si fermano lì sotto. Segui i nostri consigli per portarti a casa foto ed esperienze uniche.